Per molti di noi Facebook è una realtà nella nostra attività e nella nostra vita privata. Io comunico quotidianamente con i miei elettori e i miei amici attraverso la piattaforma. Sono molti i vantaggi che derivano dal servizio, eppure fra questi grandi vantaggi sono emerse delle criticità e voglio darle il benvenuto a questa udienza, Mr. Zuckerberg. Credo che Facebook sia un grande progetto innovativo, con un buon potenziale che abbiamo accolto con favore, un'innovazione che però ha generato delle contraddizioni. Purtroppo alcuni in politica e nei media usano la loro posizione per spingere Facebook a censurare la parola degli utenti. Ad aprile le ho detto di essere rimasto deluso da Facebook per la limitazione della libertà di parola nel comunicare i rischi associati alle vaccinazioni. Io sostengo le vaccinazioni di bambini e adulti, ma sono anche a favore di una comunicazione aperta e schietta sui rischi dei vaccini. Ognuno dovrebbe prendere le sue decisioni sui vaccini in un quadro informativo completo. Come riconoscimento della possibilità del rischio derivante dai vaccini, il governo federale ha creato un fondo per le vaccinazioni e ha versato oltre 4 miliardi di dollari per risarcire coloro che sono stati danneggiati dai vaccini. Non esiste un riconoscimento più chiaro o persuasivo del rischio legato ai vaccini dell'esistenza di quel fondo. Di tanto in tanto la ricerca medica stabilisce casi e contesti di rischi specifici associati alle vaccinazioni. Io le ho scritto quando un altro membro del congresso ha affermato che il rischio derivante dai vaccini non dovrebbe esistere e che Facebook dovrebbe vigilare sulle comunicazioni relative al rischio di vaccinazione. Oggi lei ha dichiarato di essere convinto che sia giusto dare voce alla gente. Dunque, signor Zuckerberg, Facebook è in grado di assicurarci che darà sostegno alle discussioni e comunicazioni degli utenti relative sia ai rischi che ai benefici derivanti dalle vaccinazioni in modo aperto e giusto? Grazie per la domanda, deputato. Dare alla gente voce, la libertà di espressione ci stanno molto a cuore. Questi sono alcuni dei valori fondanti dell'azienda. Al contempo, però, la nostra comunità ci chiede costantemente di fermare la diffusione della disinformazione. Quindi quello che facciamo è tentare di concentrarci sulla disinformazione che può potenzialmente creare danni fisici, danni futuri. Una disinformazione che può includere consigli sulla salute particolarmente fuorvianti. C'era una bufala che stava diventando virale alcuni mesi fa che diceva «Rimaniamo sull'argomento perché il nostro tempo è molto limitato. Lei è sicuro al 100% che i vaccini non abbiano provocato danni a nessuno in tutto il pianeta? Membro del Congresso, penso non sia possibile per nessuno essere sicuri al 100%. Quello che so dell'opinione scientifica diffusa è che è importante che le persone siano vaccinate». Ma lei ha detto che la sua piattaforma... Lei è convinto che sia giusto dare voce alle persone. Non crede che qualcuno che ha un'opinione diversa dalla sua dovrebbe poterla esprimere? Voglio dire, da quel fondo sono stati risarciti oltre 4 miliardi di dollari a milioni di persone. Non pensa che la gente dovrebbe essere in grado di avere le informazioni per fare una scelta informata? Deputato, sì, lo credo. Ed è per questo che non impediamo alle persone di pubblicare sulla loro pagina qualcosa di sbagliato. Ma se qualcuno vuole pubblicare contenuti su vaccini, antivaccinazioni o se vuole unirsi a un gruppo in cui le persone discutono di quel contenuto, noi glielo impediamo. Ma non facciamo del nostro meglio per assicurarci che il nostro sistema di suggerimento mostri alle persone interessate quei gruppi e le incoraggia ad aderire a quei gruppi. Noi li scoraggiamo dal farlo. Come fate a scoraggiarli? Beh, ci sono diverse tattiche per fare questo. Ad esempio, se qualcuno digita nella casella di ricerca qualcosa che potrebbe portare a dei contenuti antivax, noi non suggeriamo loro ricerche antivax. Se digiti esattamente il nome del gruppo, noi non lo nascondiamo. Non ti impediamo di unirti a loro. Ma non suggeriamo. Ne facciamo di tutto per mostrare contenuti che incoraggerebbero le persone a unirsi a quei gruppi. Ma le persone possono condividere tali contenuti se lo desiderano. Molte delle persone danneggiate da questa politica sono in realtà genitori con figli disabili e credo che né io né lei dovremmo voltare loro le spalle. Se guarda le statistiche, penso che si accorgerà che sta sbagliando. Sì, il tempo...